Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Lorenzo ed oggi andremo a fare una recensione di un altro naso matto. Oggi, come avete letto dal titolo e dalla copertina, andremo a fare la recensione di China White. Sfortunatamente questo profumo è stato discontinuato e non verrà più prodotto. Infatti andando sul sito di Naso Matto e appunto selezionando il profumo China White potrete voi stessi vedere che c'è scritta la seguente cosa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non verrà più prodotto direttamente dal naso matto ma che potrete ancora acquistarlo nelle vostre profumerie fisiche che hanno qualche pezzo, qualche scorta in magazzino. Questo l'ho acquistato come la maggior parte dei miei acquisti da 50-ml.com, vi lascio qua il sito in descrizione, non è sponsorizzato ma ci tengo a promuovere il loro lavoro che lo fanno davvero bene e l'ho operato anche qui su YouTube. Andiamo al profumo, il packaging è questo, purtroppo penso che farete fatica a vederlo in quanto è riportato il nome e tutte le scritte bianco su bianco, quindi penso voi facciate molta fatica a vederlo. Comunque appunto dicevo è difficile vederlo dalla fotocamera, comunque è scritto in rilievo, ora proverò a leggere cosa c'è scritto. Qua davanti c'è scritto China White, naso matto, dietro la scatola di questo profumo c'è scritto come al solito la sua frase di naso matto che diciamo ci introduce a questo profumo, che ci introduce la fragranza e dice questa bottiglia di profumo fa parte del progetto naso matto. La fragranza invita a scoprire l'intensità di una traversia sentimentale, è l'esito di un processo di ricerca per far fluire la forza della fragilità. Intanto andiamo a prendere il profumo, eccolo qua, guardatelo qua, questi sono i colori, poi ovviamente sapete che la telecamera più o meno mette i colori un po' come vuole, comunque si possiamo dire che è un verdognolo, diciamo, verdognolo chiaro ecco. Ovviamente nella scatola c'è il tappino naso matto per i viaggi, questo è il tappo di naso matto più pesante di tutti i naso matto, infatti è in porcellana. E come abbiamo letto, diciamo, nella intro, nella descrizione del profumo dietro la sua scatola, questo profumo come viene anche riportato dal tappo stesso, vedete che ha delle crepature, ha delle crepe. Questo perché? Perché appunto questo profumo si ispira ad un amore finito, ad un amore fragile, come appunto questo tappo di porcellana rivestito in plastica dura all'esterno, ma che se cade, se passa, diciamo, questo strato di plastica dura, all'interno questa porcellana è tutta scheggiata, è tutta frantumata da queste crepature che si andrebbero a dissolvere in migliaia di pezzi. Questa è proprio l'idea che c'è dietro China White, si pensava anche alla droga, alla cocaina che appunto viene chiamata China White. Questo amore sentimentale non corrisposto, fragile, davvero diciamo quasi doloroso, viene rappresentato in questo profumo. Come? Andiamo a prendere il nostro Mouillet e andiamo a vaporizzarlo. Allora, come descrive questa sensazione China White? Attraverso un profumo di base talcato, legnoso, floreale, con sentori anche di muschio bianco. In apertura soprattutto è leggermente, leggermente animalico barra sporco, penso appunto da un muschio, ma subito in apertura si sentono queste note talcate, queste note legnose, floreali, che fanno da contrasto a questo sentore sporco. A lungo andare però state certi che questo profumo abbandona il sentore animalico barra sporco, lasciando appunto un cuore e un fondo molto talcato, floreale, legnoso, davvero interessante e più forse per la parte femminile che per quella maschile. Sono sicuro che però in occasioni giuste questo profumo anche su un ragazzo come me o come un altro, qualsiasi, può dare davvero il meglio. Trovo che sia una fragranza molto elegante di naso matto, non è gridata come le altre, è comunque molto persistente e la scia è discreta, cioè si sente, è buona. Appunto a differenza degli altri non è così esagerata, proprio anche per la composizione di note che ha. Stavo dicendo che sulla pelle a lungo andare si ammorbidisce moltissimo addolcendosi anche parecchio. Non è un dolce stucchevole come la vaniglia, come spesso fanno dei sentori più gourmand. Questa dolcezza è data forse da questa rosa, da queste note floreali che diventano piano piano più dolci, miscelate perfettamente con queste note talcate e con questi legni che rendono la fragranza più morbida, cremosa e in sé molto piacevole. Ritrovo la sensazione che voleva ricreare Alessandro Gualtieri di questa idea che aveva di base, grazie alle note animali che barra sporche, fatemi voi sapere che cosa sentite in questo profumo, io ci sento questo, che appunto queste note in apertura e poco dopo l'apertura, ecco, fanno da contrasto con queste note, possiamo dire, d'amore, talcate, floreali, legnose. Penso che appunto queste note animali che sporche rappresentino proprio il dolore, il sentore di questo amore che sta svanendo e che potrebbe essere molto fragile se appunto distrutto o rotto. Ragazzi, questo era China White di Naso Matto, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questo profumo, affrettatevi a prenderlo se trovate in profumeria perché è discontinuato, ripeto. Spero che questa recensione vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se avete gradito il tutto, iscrivetevi così almeno aiutate a far crescere il canale e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao ragazzi!